Sì Alessandro, in effetti il caldo arriverà dopo il ferragosto. Intanto godiamoci aria più fresca proveniente dall'Atlantico che garantirà qualche giorno con temperature miti ed estive. L'anticiclone che ci ha interessato nei giorni scorsi è in ritirata verso l'Egeo e quindi sulla Grecia, garantendo anche quindi temperature più fresche anche sulle regioni centro-meridionali. Ecco, d'altra parte abbiamo detto che da ferragosto inizierà un periodo molto caldo, per non dire rovente, infatti un'intensa ondata di calore si dirigerà proprio sul Mediterraneo occidentale. Questa volta colpirà soprattutto il nord dell'Italia, quindi avremo temperature in deciso aumento a partire da ferragosto, un anticiclone di matrice africana che spingerà tutta l'aria torrida proprio nelle nostre direzioni. Avremo punte in pianura padana che raggiungeranno probabilmente fra sabato e domenica prossimi anche i 39-40 gradi. A Clusone raggiungeremo punte anche di 33-34 gradi, Bergamo 38-39 gradi. Ecco, passiamo all'evoluzione animata da satellite di oggi che vede gran parte del Mediterraneo centro-occidentale libero dalla nuvolosità. D'altra parte vediamo una residua instabilità in prossimità delle prealpi centro-orientali. Questa instabilità è frutto dell'ingresso di aria più fresca, come dicevamo, nord-atlantica, che si getterà dalla porta della Brora proprio in direzione delle regioni settentrionali. Quindi via via avremo sempre più annuvolamenti e non escludiamo qualche isolato piovasco sui nostri rilievi a partire da lunedì. Andiamo con il dettaglio per la previsione di domani. Ecco, domani avremo un'alternanza di nubie schiarite. Al mattino avremo cielo in prevalenza, sereno, poco nuvoloso, sia sulle nostre montagne robiche, sia nella zona dello medio-bassa Valle Seriana e Lago di Sidigeo. Però nel corso della giornata avremo qualche annuvolamento in più, specie in prossimità delle montagne, e non escludiamo qualche occasionale piovasco, ma nulla di significativo. Avremo temperature in calo anche di 2 o 3 gradi, sia nei valori minimi che nei valori massimi, garantendo quindi una bella giornata di tipo estivo con temperature nella media del periodo. Vediamo invece l'evoluzione per la settimana in Valle Seriana. Abbiamo detto che inizierà con questa residua instabilità atmosferica, cosa vuol dire che nel corso della giornata sia di lunedì che di martedì ci attendiamo degli acquazzoni, acquazzoni pomeridiani, localmente a sfondo temporalesco, con temperature gradevoli direi, con minime acclusone di 15 gradi e massime che non supereranno i 27 gradi, zero termico a 3.700 metri altitudine. Da mercoledì ecco arrivare l'anticiclone africano a pompare tutta quest'aria molto calda in direzione del nord Italia, quindi temperature in aumento e cieli in prevalenza sereni sia nella giornata di mercoledì ma anche giovedì e venerdì. Vedete come la colonina di mercurio tenderà ad aumentare e avremo punte acclusone già nella giornata di giovedì e venerdì di 30 gradi, ma sarà proprio sabato, domenica e lunedì ad insistere questa onda di calore con punte appunto di 33-34 gradi a Clusone, 37-38 gradi, anche a Bergamo e 40 gradi in alcune zone della pianura padana, quest'onda di calore che poi probabilmente terminerà mercoledì 23. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui su Antena 2, sabato prossimo.